Con questo intervento consegno il voto di astensione del Movimento 5 Stelle perché non è certo con le emozioni che tendono a mettere le bandierine su certe conquiste che secondo me è un modo sano di procedere al dibattito politico, infatti il parco della cellulosa è stato oggetto non di una commissione datata una commissione che è stata tenuta quest'estate, se non ricordo male, in cui il dipartimento patrimonio ci ha rassicurato che si sta procedendo all'acquisizione un'acquisizione che va avanti dal 2010, in cui ci sono stati prima dei problemi con i fondi, poi ci sono stati dei problemi su una servitù di passaggio poi ci sono stati problemi con la proprietà, poi ci sono stati un'infinità di problemi, anche qui si è potuto osservare che ci sono stati negli anni atti di indirizzo politico come poi questa mozione a cui non hanno asseguitato niente, se non promesse elettorali che questa amministrazione invece sta portando a termine con l'acquisizione definitiva su una cosa ha ragione la consigliera Celli, quando si dice che non è tutto, tuttavia nonostante si stia procedendo all'acquisizione ed è veramente questione di giorni e che si possa avere l'atto esecutivo richiesto dalla consigliera Celli però dice una cosa vera che poi sarà anche un tema che verterà su questo parco la cellulosa ovvero la conseguente messa in sicurezza dello stesso e che necessiterà poi di una progettazione da parte del Dipartimento Ambiente che sarà molto complicata a voi per le realtà fattuali già presenti sul parco che in questi anni hanno portato avanti determinate iniziative che hanno reso il parco fruibile in un certo qual modo e in seconda battuta sulle spese che poi si dovranno quantificare e determinare per mettere in sicurezza questo parco. Allora noi rassegniamo appunto il voto di astensione su questo atto sul parco della cellulosa chiedo scusa perché credo che almeno politicamente sia ingiusto dopo che appunto si sono fatte tante temi io ho sempre convocato tutte le commissioni sul punto quando mi è stato richiesto e insomma si sono seguiti passo passo gli aggiornamenti io credo che una mozione che ci chieda appunto l'acquisizione e quindi che chieda quello che è il riassunto di tutte le commissioni commissioni patrimonio sul tema sia insomma inopportuna. Ecco, grazie mille.